amici riprendiamo il nostro collegamento per in occasione della festa di san francesco di paola di trapani il collegamento che vedrà stavolta rivivere insieme il momento di preghiera al porto di trapani ci saranno tre momenti in questa lunga diretta la prima è proprio il momento di preghiera al porto di trapani buona visione ecco l'entrata al porto della banda musicale città di paceco che tra poco entrerà anche la statua di san francesco di paola intanto sentite di sottofondo tutte le navi del porto che rendere omaggio a san francesco di paola con noi il suono appunto delle sirene grazie a tutti grazie a tutti abbiamo immaginato oggi l'uscita alle quattro della statua di san francesco di paola e come si più o meno accade il giorno della processione questo è l'orario in cui si arriva più o meno al porto per rendere omaggio alle vittime del mare e gridiamolo tutti insieme viva san francesco di paola grazie a tutti 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 ecco ora Stacchiamo un attimo che prendiamo il secondo video in cui c'è il momento di preghiera da parte del rettore di San Francesco di Paola, padre Alessandro Scusate Scusate Ecco Vogliamo ricordare anche a tutti coloro che imparano la testa di San Francesco di Paola Lo faremo ricordando alcuni nomi, alcuni nomi nabadesi e nabadesi che per lavoro, per come si dice, portare il pane a casa, hanno dato la vita Facciamo ripetando a San Francesco di Paola la sua intercessione perché sin da arresto siano partecipi del banchetto eterno preparato da vostra Signore e da Gerusalemme Facciamo predicendo anche questo mare che è fonte di vita, fonte di lavoro, fonte di incontri culturali, ma anche luogo di tragedie Tragedie sul lavoro, tragedie sulla grande questione della generazione Prima Lo Dio la grandezza degli uomini, ha scelto San Francesco di Paola, a minimo tre di tecni, per innalzarlo ai vertici della sattività L'hai proposto al tuo corpo come modello acrotentore Concedi anche a noi di seguireste sé per condividere i contumi della promessa e di amico, per Cristo, nostro Signore. Nessun silenzio, ascoltiamo alcuni di questi nomi. Molti di voi conosceranno alcuni, ma alcuni ancora alcuni, ma continuiamoci nelle preghe. E questo unirci nella preghiera lo faremo adesso dicendo io i nomi delle persone in ricordo che sono morti nel mare. E ricordiamo... Adragna Gino Barbiera Anna Barbiera Stefano Cascio Giovanni Mancuso Tommaso Monaco Giuseppe Nicotra Domenico Nicotra Gaetano Nicotra Giacomo Nicotra Rosario Nicotra Salvatore Rinaudo Nicolò Vario Giovanni Adragna Rosa Bertolino Leonardo Caruso Michele Conticello Gaspare Fonte Giuseppe Gianquinto Francesco Lombardo Francesco Maranzano Giovanni Mauro Ignazio Merlino Claudio Mirabile Antonio Mirabile Salvatore Randazzo Filippo Guaiana Vincenzo Campo Antonino Ilari Salvatore La Vespa Gaspare Romano Rosario Calamia Nunzio Roccia Angelo Verme Pietro Grimaudo Francesco Grimaudo Giacomo Grimaudo Leonardo Grimaudo Salvatore Romano Giuseppe Federico Michele Gianni Trapani Vincenzo Guaiana Giovanni Allotta Nicola Garuccio Giuseppe Fugarino Giuseppe Pompeo Massimiliano Ballotta Giuseppe Camareri Nicola Corso Antonino Romano Nicolò Carriglio Nicolò Carta Salvatore Pettinato Leonardo Papa Mario Armatore di Gaetano Spada Vincenzo Spada Vincenzo Virzi Giuseppe Adragna Liborio Barraco Vito Mistretta Andrea Di Bella Pietro Bartolomeo Salone Mocada Sebastiano Damico Giuseppe Maltese Andrea Apprezzivi Vitola Domenico Bottone Francesco Paolo Brancato Girolamo Gianni Antonio Salim Gioberto Sconzo Alfredo Della loro Signora Esplenda ad essi La luce perpetua Riposano in pace Ame B Grazie a tutti 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 E adesso Grazie a tutti 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 Buono Grazie a tutti 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 Grazie Grazie a tutti 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 fu il famoso Grazie a tutti 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 E a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie Grazie a tutti 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 Grazie a tutti